A chi appartiene quel libro? Gliel'ho regalato io. Sai bene che è proibito in questo istituto possedere libri di quel genere. Allora se è così, mi punisca come merito. Avanti, vieni dalla madre superiore. Come l'ha fregata me. Non è stato carino da parte tua però. Vanessa, you are the girl in my dream. Vanessa, you haunting all my reverie. Vanessa, I'll long to hold you once again. Vanessa, I'm waiting for me now when. She will be back again. Vanessa! Forna subito indietro, cammina sulle sidere. Internet Mama! Adolfo! Ito! Look at me! Ero! Ero! Fuori! Di che cosa traccia questo libro? E non sta con te. Vanessa sa bene di meritare una punizione. Mi chiusterò. Figliola, tu conosci la punizione. Vanessa la prega di volergliela inserire. No, Mita. Per questa volta dovremo rinunciarci tutti. Ho una triste notizia per te, figliola mia. Purtroppo l'ultimo membro della tua famiglia, Richard Anden, di Hong Kong, è morto. L'unzio Richard? Si è indagato sull'esistenza di altri parenti. Senza dubbio, tu sei la sua unica rete. Il suo patrimonio ti spesa di diritto. Io oso sperare che al momento opportuno ti ricorderai di noi e del nostro convento. Vero, figliola? Questo non posso prometterlo, madre superiore. Il consulato ci scrive che ti aspettano. Il volo per Hong Kong è pagato e prenotato. Ricordati che qui da noi tu hai avuto un'educazione cristiana e civile di primordine, Vanessa. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Posso esserle di aiuto, madame? Può portarmi alla villa del Consul Egritte? Conosci l'indirizzo? Naturalmente, madame. Grazie per l'onore. Grazie a lei. Proprio lussuosi i taxi di Hong Kong. Il minimo per le belle europee come lei. Questa zona mi sembra molto povera. Questo è il famoso quartiere della malavita di Hong Kong. Qui non può passare neanche la polizia. Vada piano, per favore. Voglio vederlo bene. Sono tutti balliti questi. Questi mercanti no, è chiaro. La zona dei gangster è dietro le botteghe. Grazie a tutti. La ringrazio. È stato un piacere. Un momento, prego. Va bene così? Naturalmente, madame. Tra l'altro. Sì, certo. La ringrazio. La ringrazio. Chi si vede? La ragazza di un altro pianeta. Tu sei Vanessa Anden, vero? Già. Cerco il console Gritte. Lo zio Anthony non è in casa. E la sorellina Claire? Pazzola in giro per la città. Allora aspetta. Sì, ma non in questa tenuta. Non è indicata con questo caldo. Fa preparare subito un bagno. Mi chiamo Jackie e sono la nipote del console. E so tutto sul tuo conto. Tu sei l'unica erete del patrimonio di...